Ormai si vuoca, qualcuno ha la prezionante idea di esprimizzarsi, che, no, 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 ho un bel suore di chiari di nuca e te ricordano bene, no, 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 ho passato una sera con la mia testa, direi senti se non è che ha 30 euro, guarda una 5,50, con te la città, 15 euro, una rottura di palle estrema, ma, ma, lasciatemi la posizione, avere come...